era una partita in notturna verona vicenza eravamo sull'uno a uno il pubblico ha cominciato a urlare zigo zigo palla al centro detto al mio compagno toccami la palla senza che nessuno la toccasse più e saltai quattro da 30 metri di destro che è il mio piede debole feci gol io non ero ribelle o sregolato io sono nato così un ragazzo libero che giocava a calcio perché gli piaceva giocare e non per denaro no 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.